e dopo una giornatona di voli con i droni qui ad ali di classe con il buon andrea voletto qualità di carburante neanche rubinetti radio intercom off strobe light on manetta 05 niente se è freddo magneti on freno parcheggio inserito via dall'elica attraggio inserito Grazie a tutti. Oh, ci voleva proprio. Seratina così, che l'abbiamo fatto? 22 minuti. 22 minuti. Siamo sparati in... 8,8... 40 minuti. Da 24 a 0,6. 42. 42 minuti. Ciao a tutti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS